Ma guarda qua, cioè se esci in minicona te la c'è. Ma è in decena. Ma che carina cattrini. Guarda, qua c'è tra lì con il cappottino, qui con la coroncina e qui il suo compleanno. La situazione è tutta colpa del governo precedente. Non sono razzista, ma... È una vita che devi sentire di tutto. Adesso, scegli cosa ascoltare. Scarica Audible. Libertà di ascolto da Amazon. Grazie.